Nel corso della seconda metà del Quattrocento, la bottega di Tommaso e Matteo Biazzaci realizzò oltre una trentina di pitture ad affresco e su tavola, disseminate tra la pianura cuneese, le valli del Marchesato di Saluzzo e l'antica diocesi di Albenga. Com'è naturale, non tutte le opere hanno la medesima qualità, ma alcune di esse sono firmate da Thomas Biazzacius di Busca e Matteus Eius Frater. Questo permette di conoscere i nomi dei pittori, la parentela che li legava e il luogo di provenienza, Busca appunto. A quell'epoca la cittadina aveva circa 3.000 abitanti e aveva il suo centro vitale lungo la contrada maestra.